Oggi ci troviamo all'Istituto Stomatologico di Milano, un centro altamente specializzato che da più di 100 anni si occupa di prevenzione e salute orale. Siamo qui per parlare di un disturbo molto diffuso, che per la sua natura ha un forte impatto sociale e sulla vita di coppia. Si tratta del russamento. Da recenti statistiche risulta che tra le persone oltre i 40 anni il 50% degli uomini e il 25% delle donne russano. Pur non essendo in sé una vera e propria malattia, il russare rappresenta un sintomo che non va certamente trascurato. Spesso infatti chi russa è affetto anche da apnea notturna, che è invece una patologia con risvolti importanti sulla salute generale. Ne parliamo con il dottor Marco Persia, specialista in chirurgia maxillofacciale, che qui, proprio all'interno dell'Istituto Stomatologico Italiano, si occupa tra le altre cose anche della diagnosi e della terapia del russamento. L'atto fisiologico della respirazione prevede il passaggio d'aria attraverso delle strutture anatomiche molto importanti. Le prime a essere interessate sono le cavità nasali, generalmente rigide, e successivamente si passa nel rinofaringe e nell'orofaringe. Il flusso d'aria proseguirà poi nella trachea, nei bronchi e infine nei polmoni. Attraverso questo passaggio, soprattutto durante le ore notturne, le strutture flaccide tendono a collabire e in alcuni soggetti la vibrazione provocata dal flusso d'aria provoca quel caratteristico rumore che quasi tutti conoscono, che si definisce russamento. Oltre al disagio notturno che si avverte per il paziente che russa e per chi gli sta di fianco, il significato clinico di questa patologia, perché così deve essere definita, è associato anche a rilevanze di tipo clinico. I pazienti che russano possono avere anche delle apnee notturne, ancorché non le riconoscano loro stessi, ma solo con degli esami accurati, quali la polisonografia in principio, è possibile documentare. Il paziente che russa e che ha apnee notturne è un paziente da trattare, perché la rilevanza clinica che ha sull'apparato cardiovascolare, sullo stato della vigilanza e su tutta un'altra serie di fattori che possano favorire l'insorgere di malattie, suggeriscono un trattamento multidisciplinare proposto dall'otorino, dal chirurgo maxillofacciale, dal medico neurologo che si occupa di medicina del sonno e dall'odontoiatria, che generalmente non è il primo ad intercettare questo tipo di paziente. Tra le figure di professionisti che lei ha appena citato ha parlato anche dell'odontoiatra, qual è il ruolo quindi dell'odontoiatra nel trattamento delle roncopatie e delle apnee notturne? Sicuramente l'odontoiatra è il sanitario, il clinico che più di ogni altro ha occasione di guardare il paziente in bocca, pertanto deve occuparsi non solo dei denti ma di tutte le patologie che rivestono il cavo orale e le prime vie aeree. Pertanto va ricordato che l'odontoiatra deve saper valutare, riconoscere, prevenire ed indirizzare un paziente sospetto per una neopresia intraorale, ma anche poter valutare se vi sono i presupposti perché il paziente possa sviluppare una patologia di tipo funzionale, quale una roncopatia o una apnea notturna. Qualora questo fosse confermato l'odontoiatra poi deve stabilire, concertando in termini multidisciplinari la diagnosi ed infine il trattamento, riveste un ruolo fondamentale sotto il profilo terapeutico nel momento in cui il paziente viene indirizzato ad un trattamento di una roncopatia e o apnea notturna con dispositivi intraorali. Ci puoi parlare appunto di questi dispositivi intraorali? Vi è un gruppo di pazienti roncopatici o che soffrono di apnea notturna che richiedono un trattamento di tipo conservativo, funzionale, non chirurgico per intenderci, che si avvale appunto di dispositivi intraorali che vengono posizionati in bocca e che è opportuno che l'odontoiatra proponga dal momento che delle figure professionali di cui abbiamo parlato prima, quello che meglio degli altri conosce le possibili interferenze e ripercussioni che ci possono essere sull'articolato e sull'occlusione e sull'articolazione temporomandibolare. L'Istituto Stomatologico Italiano è attivo nella diagnosi e nella terapia delle roncopatie e delle apnee notturne. In che modo? Presso l'Istituto Stomatologico Italiano è operativo un ambulatorio dedicato ai pazienti roncopatici che si avvale appunto di tre livelli di trattamento, una volta che il paziente ha fatto tutto l'iter diagnostico che prevede naturalmente una visita specialistica, un esame polisonnografico e successivamente un piano terapeutico. Per i pazienti di primo livello che quindi non accedono al livello chirurgico di chirurgia ambulatoriale con radiofrequenze o addirittura di chirurgia maxillofaciale con avanzamenti bimacellari, presso l'Istituto Stomatologico Italiano noi proponiamo un trattamento con dispositivi di avanzamento mandibolare personalizzati che ancora una volta richiedono le competenze specifiche che un odontoiatra ha, ovvero questi dispositivi mandibolari si vertono sulla capacità di portare in avanti la mandibola in modo tale da aumentare lo spazio faringeo e favorire il passaggio dell'aria durante la notte riducendo o annullando il fenomeno roncopatico e anche le apnee notturne. Voi avete adottato un dispositivo in particolare? Noi proponiamo il dispositivo Dottor Rus che ha alcuni vantaggi rispetto ad altri dispositivi permettendo una mobilità della mandibola che anche durante il sonno è indispensabile e permette al paziente progressivamente nei giorni successivi a quando viene consegnato questo dispositivo perché è personalizzato, occorre un rilievo delle impronte, una cera da masticazione, permette appunto al paziente di produrre un avanzamento mandibolare progressivo e qualora possano comparire dei disturbi perché andando ad alterare la funzione dell'articolato è possibile che ci siano dei disturbi e il paziente può recedere dall'avanzamento e portare la mandibola in posizione più arretrata, più vicina a quella naturale che naturalmente però provocherà un fenomeno di russamento maggiore. Il paziente deve trovare un suo punto di equilibrio insieme all'odontoiata che lo sta curando. Per la vostra esperienza il dispositivo Dottor Rus è ben accettato da parte dei pazienti? Il paziente che indossa il dispositivo Dottor Rus ha una compliance molto alta, è soddisfatto del miglioramento che generalmente tutti i pazienti hanno e va educato il paziente, non è pensabile di poter confezionare e consegnare al paziente un dispositivo Dottor Rus e pretendere che dal primo giorno lo porti tutta la notte magari con un avanzamento cospicuo immediato. Il paziente deve essere educato e istruito su come procedere nell'indossare il dispositivo. Noi consigliamo di abituarsi nelle ore serali prima di coricarsi e solamente dopo alcuni giorni, alcune sere portare il dispositivo durante il sonno e solo successivamente procedere con l'avanzamento mandibolare. Questa propedeuticità negli obiettivi da raggiungere generalmente permette al paziente di sviluppare una necessaria tolleranza per un qualche cosa che comunque non gli appartiene, anche se noi gli abbiamo dato in maniera personalizzata.